Una perdita d'acqua che scorre ininterrottamente da mesi rendendo il marciapiede impercorribile è quanto accade in Viale delle Repubbliche Marinare ad Ostia, nei pressi del giardino Simone Renoglio. La stavo vedendo ieri, non solo è pericoloso che si può scivolare, ma siccome che spesso noi dobbiamo telefonare per far venire l'autobotte a portare l'acqua, è uno spreco che si fa sprecare questo, manca l'acqua al giardino però non si sa perché c'è una perdita. Quindi magari spero che con la vostra trasmissione riuscirete a convincere l'AMA o l'ufficio giardini o chi sia a mandare qualcuno. Penso che si è pericoloso perché sempre è bagnato, quando non c'è luce può scivolare, persona anziana o un corossino, è pericoloso. Sicuramente è pericoloso, oltretutto il manto statale non è dei migliori, quindi sicuramente può evocherare ulteriori buche di stesso statale. Anche per passare magari a piedi con lei e con il passeggino? Certamente, infatti lo evito quella zona lì perché è impossibile passarci, quindi oltretutto non c'è neanche un buon passaggio per i passeggini, i carrozzini eccetera, quindi bisogna un po' metterci in mano qua, sì sì. Lì si scivola che è una meraviglia, io passo sempre a largo, io già sono caduta tre volte, mi sono rotta una costa la signorina, e ho il terrore, se lei veniva pochi giorni fa, qui era un macello pieno di buste, sporci, pure l'acqua. Potrebbe scivolare qualcuno, qualche persona anziana, per me è una cosa inaccettabile una cosa del genere, ci vorrebbe qualcuno che si interessasse un pochino di più della zona, anche perché è un peccato di Dio, ostia, è una bella cittadina, siamo completamente abbandonati. I residenti temono per la loro sicurezza e chiedono un tempestivo intervento di manutenzione.